Signore e signori potrei avere la vostra attenzione questo è il momento che stavate tutti aspettando state per assistere allo spettacolo di puro intrattenimento quindi sedetevi mettetevi comodi iniziate ad applaudire perché in questo momento davanti ai vostri occhi sta per andare in onda il più grande spettacolo del mondo Grazie a tutti buonasera buonasera a tutti mi presento come sempre io mi chiamo già luca detto old nerd su twitch dappertutto su qualunque social con me c'è sempre il mio caro mecchio luca ciao luca non ti si vede un secondo eccoti qua ciao luca e con sommo piacere e con estrema gioia che annuncio l'ospite di stasera una persona che seguo su youtube da non non ho più memoria da quando perché da troppo ecco qui claudio ciao claudio ciao eccoci qua ciao a tutti si è giusto da troppo da troppo mi segui basta adesso è il momento di smetterla no no e no semplicemente questi stalker di oggi che si mettono di seguire c'è in chat un ragazzo come si fa a seguire lavori di qualità cioè no difatti non non si può più tipo dei cantieri no seguiamo lavori così con le mani dietro la schiena non so se con tutti quando guardo i tuoi episodi su youtube tengo le mani dietro la schiena ovviamente quella è perfetta la posizione ideale allora claudio ah c'ha un po di problemi di sono qui per disturbare essenzialmente no assolutamente no caldo spero che mi si senta quantomeno ti si sente benissimo claudio ci tengo a legge un messaggio che c'è un ragazzo che si chiama stefano e probabilmente lo conosci perché sta nel gruppo di farez in cerca di me stesso su internet e ti saluta e ti segue dal 2012 e ti saluto ti tenevo a farlo a bai lato 87 paolo bartolini paolo bartolini radio web web in volo a sì 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 buon paolo ciao 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 probabilmente sarà lì a lavorare in radio fino alle 3 di notte come sempre allora facciamo l'introduzione facciamola bella questa intervista perché ovviamente quello che voglio fare è cercare le perle di Youtube e portarle a fare un'intervista fatta bene di tutto l'escursus di come hanno iniziato di quello che sono diventati e di quello che continueranno a portare se hanno voglia perché c'è sempre da dire questo non c'è più voglia a posto, si è già capito comunque l'onestà va premiato assolutamente sempre allora, qui bisogna allontanare un po' il microfono, scoppia l'audio comunque, ti introduco Claudio Palazzolo, meglio noto sul web come Dr. Game o Cloro dipende come sei stato soprannominato sei, come adesso si usa dire, un content creator perché c'è questo termine sì, perché Youtuber è brutto esatto è un insulto quasi e io sugli appunti ho scritto questo, content creator che pubblica video sulla piattaforma digitale Youtube perfetto l'ho fatta proprio ricamata proprio bene bene allora la tua notorietà è nata sul web nel 2012 con le recensioni sul sito web The Phantom Custom da te stesso creato mi puoi dire una cosa di quel periodo cosa ricordi delle recensioni sul web di quel periodo? perché c'è proprio un mondo differente di dieci anni fa da adesso come te lo ricordi quel periodo? sì, ricordo ricordo tante parrucche e gente che si travestiva nei video ok roba un po' imbarazzante in realtà però diciamo che era embrionale è partito tutto da lì è stato uno step necessario quello del travestimento e delle stupidaggini però prima di parlare di Youtube io vorrei parlare del sito del blog che avevi The Phantom Custom ah sì sì beh il sito tu fai conto che più che il sito il forum perché all'epoca andavano moltissimo i forum autostati diciamo così e le community si creavano lì perché non esistevano i social essenzialmente quindi la vita su internet per molte persone è partita appunto dai forum o dai canali IRC era un periodo molto più semplice e genuino e anche per me è successo questo però dal lato del creator più che dell'utente perché alla fine in quel periodo ero io che mettevo online le pagine gestivo le community perché dai primi momenti in cui ho potuto mettere mani su internet mi ha sempre interessato quell'aspetto lì quello gestionale tra virgolette io sono su internet dal 97 97-98 e da sempre che io abbia memoria insomma ho sempre lavorato per comunicare con gli altri perché è quello essenzialmente che fai quando gestisci una community quando dici di te al pubblico o alle persone tramite un sito ed è la stessa cosa che ho continuato a fare anche poi quando ho messo su il canale youtube che prima era partito come canale google video all'epoca c'era google video e poi quando google acquistò youtube ho portato tutto quanto su youtube e nasceva tutto quanto da contenuti che erano ad abbannaggio di chi frequentava il forum e il sito insomma a quell'epoca poi è morto tutto lato forum e sito perché i social si sono mangiati tutto ed è rimasto il canale youtube guarda io ho aperto il sito oggi e dal 2019 che non vi hai aggiornato niente no no è morto è morto lì così sì che poi tra l'altro ero da solo a far tutto il lavoro di aggiornamento sul sito almeno poi il forum è morto per altri motivi anche i tecnici ma poi proprio per abbandono seppure è semplice e non avendo più tempo né voglia di star dietro al sito niente il sito è morto da un bel po' infatti credo che alla volta prossima che andrò a pagare l'hosting banalmente che ormai sono vent'anni quasi che pago hosting per niente non dico che lo chiudo ma non lo rendo più visibile metto solo placeholder e poi lo utilizzo un po' solo come spazio web per quello che per i miei progetti insomma sì purtroppo quello è un mondo che è andato morendo ma è normale insomma tutto quanto cresce nasce muore anche su internet già bene allora e vado avanti io e allora all'incirca da metà degli anni ottanta in poi eravamo tutti quanti divisi in due categorie segari e nintendari da quello che sappiamo sei sempre stato più nintendaro piuttosto che segaro secondo te al momento come vedi la presa la piega presa dalla nintendo cioè quella di non gettarsi sulla next gen ma rimanere ancorati ai suoi ideali storici cioè l'intrattenimento un po' più old style oppure vedi in switch una nuova filosofia di next generation no sì come hai detto tu nintendo altro non fa che riconfermare se stessa ad ogni giro è sempre uguale è rimasta la stessa dagli anni ottanta semplicemente si è un po' più chiusa alla competizione con gli altri ecco perché da da win poi hanno deciso di non giocare più sullo stesso piano dei competitor ma di aprire un campionato tutto suo come si per fare una citazione colta aprire un casino tutto suo con blackjack e squildo di lusso e ci sta insomma quindi dici ha preso proprio un'altra strada rispetto a sì ma ci sta perché intendo è fra le varie grandi del videogioco è quella più giapponese di tutte tra l'altro adesso anche sony sony non ha più gli headquarters della divisione videogiochi in giappone ma adesso ce li ha in america quindi l'unica che è rimasta ancora basata su quella l'idea anche imprenditoriale ma proprio di produzione videoludica o comunque di prodotti videoludici tipicamente giapponese è rimasta nintendo e nintendo continuerà così loro a loro interessa semplicemente vendere le famiglie essere un po' la disney dei videogiochi quello nintendo vuole fare e però non scontentando e questo è stata una cosa che è venuta fuori un po' nelle ultime generazioni la base dura e pura di coloro che l'hanno vista nascere crescere ecco cosa che un po' era stata dimenticata in epoca Wii quando si decise di mandare tutti quanti a quel paese e approcciare un genere nuovo di videogiocatori cioè chi non aveva mai videogiocato ecco esatto anche venendo dal gamecube diciamo un'esperienza non proprio positivissima il gamecube aveva tantissimo materiale dedicato alla fanbase dei duri e puri però si è visto diciamo la fine che ha fatto è perché lì c'era una cosa che si chiamava playstation 2 che era impossibile da superare da rivaleggiare e niente quindi resterà per sempre così Nintendo continuerà io secondo me Nintendo nel momento in cui vedremo che le altre case produttrici non avranno più una console ma venderanno servizi cosa a cui si arriverà sicuramente Nintendo sarà l'unica che continuerà ad avere la sua console vedrete perché non abbandonano quel genere di visione del mondo molto persone che vanno sulla metropolitana giapponese friendly ok perché per Nintendo è quella la base del videogiocatore perfetto ragazzini e persone che viaggiano che è perfettamente la fotografia del pubblico giapponese è vero è tutto vero non hai sbagliato niente è vero allora torniamo a YouTube adesso ci addentriamo lì come detto hai iniziato YouTube nel 2012 innegabile come hai citato tu in tante interviste le influenze che ha avuto su di te e su tutti inutile negarlo l'angry videogame nerd perché ha influenzato qualunque cosa e hai acquistato il nostro padre e si dai e hai acquistato notorietà col personaggio che hai creato appunto Doctor Game vero e proprio medico videoludico dove ti occupi di gestire uno studio dedicato esclusivamente ma non solo al retro gaming e all'interno del quale di puntata in puntata recensisci console dell'epoca passata proprio buttandoci dentro tutto nozioni storiche qualunque cosa cioè proprio fai proprio un punto totale dell'opera di cui stai parlando quello che ti voglio chiedere è quanto lavoro c'è dietro nella creazione di un video e se c'è un video in particolare che ti ha dato più soddisfazione nel crearlo è un qualcosa che dici quando lo riguardi non è che c'è quell'effetto che dici che schifo non lo voglio più vedere cioè proprio ti va ancora di riguardarlo se c'è allora di lavoro ce n'è tantissimo tantissimo ecco perché a volte mi dilungo molto nei periodi in cui non pubblico nulla semplicemente perché lavoro al prossimo video quindi il mio tempo libero è essenzialmente zero quindi potete immaginare quanto tempo ci voglia per me più che per altri per buttare giù un video che dura anche 40 45 minuti e senza contare poi tutta la parte non tanto di riprese perché quelle me le sbrigo in una serata quanto di montaggio perché di montaggio c'è un disastro soprattutto se si tratta di video con effetti speciali e tutto il resto quindi se ne vanno i giorni ed è uno dei motivi per cui spesso non ho neanche voglia di mettermi lì perché già so che muoio dentro come video invece più particolari che ho amato sembrerà stupido ma uno che mi è piaciuto moltissimo fare girare e che poi alla fine dopo che l'ho riguardato la prima volta ci ho trovato una quadra perché ancora per me non ce l'aveva mentre ci stavo lavorando è stato il video dell'attacco dei cloni non so se avete mai visto quello che ho creato pensato montato al contrario quello è stato è stato un po' un voler flexare il fatto che mi era venuta l'ideona per sta cosa un po' stramba però poi alla fine mi è venuto bene nel senso sono contento di come è venuto fuori non è certo un video imperdibile però mi sono divertito molto e mi piace riguardarlo ancora ad oggi pur se fa adesso se lo guardo con gli occhi di chi sono adesso fa cagare perché c'è un mille errori però sono contento di come è venuto all'epoca è questo insomma guarda Luca prima di farti fare la domanda voglio chiedere una cosa dove cavolo hai comprato quella t-shirt perché è bellissima cioè io e Claudio abbiamo a tema videogiochi tu hai Bruce Lee che fa il DJ è bellissima questa me l'ha me l'ha regalata ma me l'ha regalata Deadpool ah ok perfetto ah proprio lui proprio la persona proprio la persona vai vai Luca scusa allora anche io sono gioco con tutto quanto però sono un buon fruitore di giochi vecchi di retro game e colleziono da non ti dico quando sono nato ma poco dopo e visto che anche tu sei un ottimo collezionista e credo abbia casa non piena stra piena di console accessori gadget eccetera al momento sai quante console giochi possiedi in casa più o meno hai mai fatto una stima una sorta di inventario e ce l'ho tutte qui messe un po' ammontichiate e ti potrei dire quelle che non ho piuttosto che quelle che ho perché ne ho veramente tante qual è quella a cui tieni di più quella a cui tengo di più proprio per la difficoltà con cui me la sono procurata perché ce l'ho fatto dei giri incredibili e lo zibo di tectoy lo zibo lo vendevano tra l'altro al brain fusion si lo so io l'ho comprato dal brasile ed è stato veramente una roba che manco indiana jones che va nel tempio io sono capitato lì per caso il giorno in cui arrivò lo zibo per la prima volta in negozio lì a brain fusion a forlì si si grandissime risate abbiamo provato di tutto e di più ovviamente anche resident evil 4 anche resident evil 4 esattamente comunque credo che di avere una cinquantina una sessantina di sistemi e non di tutti però colleziono roba nel senso molte sono console e basta più un paio di giochi tanto per testarle e provarle perché non sono collezionista di tutto lì se no non se ne esce più però di hardware sì mi piace collezionare le console i giochi solo di quelle che mi interessano tipo che so snes snes quale roba saturn quelle un po' più diciamo in del periodo sì quelle che hanno giocato un ruolo nella mia crescita da videogiocatore hai anche l'aes sì 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 qua sopra tra l'altro sì 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 con due cartucce basta perché a me no poi io dopo due cartucce non hai continuato no sì non esageriamo per giocare con il neogeo ho una base mws con le cartucce mws che sono molto più abbordabili sì comunque tornando alla serie principale appunto del canale di youtube dr game sono affiancati i dr game files appunto proprio degli episodi spin off che trattano argomenti quelli più borderline o recensioni di materiale più varie di qualunque cosa dai più variegato diciamo in particolar modo cloni di console ben più famose e tra le quali presenti numerose recensioni di open console basate su android o altri sistemi però molto più di nicchia ovviamente parlando di tale acrocchi perché il termine quello è un acrocchio è impossibile non toccare l'argomento pirateria solo in ambito retro gaming di console quelle che ormai sono andate perse tipo il neogeo appunto come parlavate il saturn eccetera e perché per chi ha voglia di farsi una cultura di questi giochi è proprio è praticamente impossibile giocarci cosa ne pensi tu degli emulatori oppure preferisci proprio l'esperienza sulle console quelle originali proprio a pacca sassi insomma detto volgarmente cioè puoi dirci la tua sul tema della preservazione videoludica ecco appunto proprio per questo per la preservazione videoludica se non ci fossero gli emulatori bisognerebbe inventarli sono fondamentali gli emulatori fondamentali è è un modo meraviglioso che la fanbase sia inventata per poter mantenere viva la storia dei videogiochi perché se non fosse stato per chi ha creato gli emulatori a quest'ora le stesse case produttrici di quei giochi lì che adesso vendono emulatori tipo Nintendo eh non credo che l'avrebbero mai fatto perché a loro non interessa tentare di lucrare sul vecchio se non sanno che effettivamente si può lucrare sul vecchio Nintendo l'ha capita questa cosa perché a furia di chiudere siti di emulatori e roms ha capito che effettivamente gente interessata ce n'è e quindi se non fosse per gli emulatori per le roms e tutto quanto quello che ne consegue sarebbe veramente un mondo molto più brutto però nonostante questo insomma si c'è sempre da tenere ad occhio la questione pirateria perché effettivamente per molto di questo materiale si tratta di materiale pirata non sugli emulatori no almeno alcuni potrebbe anche dare adito a qualche dubbio però gli emulatori nel 99% dei casi sono programmi puliti che non hanno niente a che fare con la pirateria poi le roms lì ci sono varie linee di pensiero varie legislazioni che si che ognuna contraddice l'altra eh lì non si è mai capito niente di preciso però ehm è un mondo che che è necessario è necessario purtroppo non puoi preservare il videogioco eh su gli supporti originali o almeno non lo puoi fare in maniera importante e programmata e consistente perché si tratta di prodotti che soggetti a deperimento eh che si usurano che eccetera vedi per esempio eh tutta la questione del mame ok quindi l'emulatore l'emulazione dei sistemi da sala i cabinati per loro natura sono sistemi che che vanno come si dice qui a ramengo capito cioè nel senso non li puoi preservare per sempre uno per una questione di spazi due per una questione di usura e di problemi legati al passare del tempo e quindi è ovvio che per preservare quel genere di giochi lì devi virtualizzare tutto e il progetto mame uno dei primi e più importante attualmente nasce e cresce per quello ricordiamoci che col mame mame non si deve giocare col mame si preserva perché il mame non è nato per giocarci altri emulatori arcade sono nati per giocarci potè che il mame non favorisce la giocabilità dei giochi quanto la preservazione del del corretto funzionamento dei sistemi arcade vero 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 io per esempio sull'argomento detesto chi scarica le rom dello switch sì ma lì poi se parliamo di sistemi attualmente venduti e prodotti quella è becero pirateria e lì non ci piove non ha alcun senso quella cosa lì alcun senso però se parliamo del che ne so dello zibo anche se lì non so a che punto è arrivata l'emulazione dello zibo credo che sia arenata da qualche parte ma se parliamo di altri sistemi dimenticati se parliamo che ne so del master system ad esempio che banalmente è una console che non è scomparsa perché nemmeno la stessa sega le interessa niente riproportera capito e quindi sì in quel caso sono cose importanti molto importanti bene e andiamo avanti altra rubrica presente nel canale è la serie mai giochi dove tratti una serie di giochi riguardante una specifica tematica o categoria all'interno della quale viene dato un breve parere al fine di incuriosire lo spettatore tra tutti i videogiochi del passato presente c'è qualche titolo che ami di più e soprattutto il motivo per cui ne sei così affezionato ma in generale tutti i giochi del passato presente esatto top 5 allora io ti devo buttare giù un po' di nomi appartenenti a certe console della mia infanzia perché sono quelli i giochi se tu mi chiedessi quali giochi ti porteresti su un'isola deserta io ti direi quelli quindi ti direi sicuramente la Super Mario World per Super Nintendo ok quello è la base del di tutto di Mario io ti dico quello ma in realtà di Mario ce ne sono tanti altri che proprio sono sullo stesso piano però se te ne devo indicare solo uno è quello lì diciamo anche Mario 3 Super Mario World fu qualcosa di gigantesco cioè appena è stato la pietra miliare più di del secondo di Super Mario Yoshi's Island per quanto anche quello era un titolo fenomenale poi ti dico sicuramente la trilogia SNES di Donkey Kong Country perché quella è stata guarda ci ho passato giorni e notti eh ti devo dire un altro gioco se ti dico Sticker Brush Symphony eh mamma mia mamma mia e ti devo dire altri giochi rare purtroppo perché sono eh hai detto niente che ho amato l'epoca ragazzi era una miniera d'oro la rare tipo Killer Instinct lo sapevo vedi detto rare subito eh quello ragazzi io me lo sognavo la notte Killer Instinct ma veramente mi sognavo le combo la notte la mattina mi svegliavo le provavo ed erano perfette io ti posso dire sto aneddoto quando mi succede qualcosa questo non fregagnatele sopra te lo racconto quando mi succede qualcosa tipo una concatenazione di cose che vanno storte invece di bestemmiare urlo Monster Campo comincio a urlare così come un deficiente perché non voglio bestemmiare allora comincio a fare Ultra Campo è rimasto su Killer Instinct noi avevamo io lo avevo praticamente sotto casa perché il bar vicino casa mia aveva il cabinato di Killer Instinct e quindi io sognavo tantissimo di poterlo avere dentro casa quando venne poi quando lo vedi su una qualche rivista per sempre forse console mania addirittura per la prima volta il gioco in uscita dove annunciavano il gioco in uscita per SNES ancora ricordo fu totale visibilio una conversione della colonna sonora è stato uno dei primi bundle special di un prodotto di un gioco più qualche altro prodotto una conversione tra l'altro per essere su Super Nintendo anche abbastanza impressionante ricordiamoci che il gioco per sala giochi praticamente aveva un hard disk dentro era talmente complesso e pesante che aveva bisogno di un'art disk è anche un titolo abbastanza difficile da emulare alla perfezione e quindi quello per Super Nintendo è stato meraviglioso comunque ti voglio suggerire un'altra frase catartica a parte la combo prova quando sei incazzato a urlare Endokio era il tuo quarto ti scarichi alla grandissima va bene scarica Iago scarica tanto e poi con gli altri giochi ne manca uno perché noi noi detti qualcosa del NES sì sicuramente uno un gioco che io lo cito sempre l'ho messo anche nel libro però nessuno se lo ricorda mai Low Gravity Man Low G Man per NES è un gioco secondo me meraviglioso per tanti fattori che non sto qui adesso ad esplicare però è un gioco veramente ben fatto giocateci mi raccomando che vi fa bene prima che Luca ti fa una domanda te la faccio io solo io me lo ricordo a questo mondo il gioco Iswat per Master System perché io lo sto chiedendo era era il classico poliziotto che dovevi andare proprio isometrico andavi avanti sparavi e poi diventavi robot sì sì solo che io all'epoca non lo sapevo l'inglese quindi lo chiamavo Eswat è quello te lo ricordi? sì sì che ve lo dico oh ne ho trovato uno dovrei avercelo anche da qualche parte dovrei ramare in giro ho chiesto a tutti nessuno se lo ricorda almeno te te lo ricordi sì 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 ma non c'era solo per Master System mi ricordo che c'era anche per qualche altra console io ce l'avevo per Master System per PC boh beh insomma allora sempre nel tuo canale non si possono non citare video dove parli dei cloni di videogiochi eh beh esatto creando il video come un vero e proprio programma comedy in cui le recensioni sono il fulcro del video tanto quanto le vicende di contorno basti pensare al personaggio di Baby Clone che è una sorta di demone che è sopportabile all'interno del tuo video e poi fino a fargli fare una finaccia ovviamente però il clone si salvò adesso siamo un po' di loro Baby Clone e per un errore si trasformò in Babbo Natale donandoti la famosa Poly Station anche questa che è grande queste sono cose tanto fammi capire che malattia mentale posso avere io quando mi penso a queste cose innescando la passione per i famiclone secondo te nel 2022 quanta voglia c'è di riscoprire perle del passato giocandole come sono state create e non aspettando remake remastered con grafica moderna molto poca molto poca purtroppo la gente non ha non ha voglia di giocare roba vecchia per quanto possano dire il contrario tipo oh sì me lo ricordo quel gioco il gioco della mia infanzia come ci vorrei giocare ancora adesso poi appena li metti davanti al fatto compiuto ecco il gioco prendi il pad gioca non ci gioca nessuno questo si vede tranquillamente con le centinaia di migliaia di console mini che ogni anno vengono vendute vengono accese una volta e poi dimenticate su una mensola ma di fatti sono più oggetti da mobili o che altro esatto collezione comprate proprio da quella gente che dice ah sì 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 me lo compro c'è dentro il mio gioco preferito di quando ero piccolo adesso me lo no non ci gioca non ci gioca nessuno ma tra l'altro troppo è così su instagram già hai messo la foto del megadrive 2 ah mamma mia cioè quello allora io lì sega non ho idea allora ecco vedi nell'ottica del gadget ok del pezzettino di plastica da vendere ai giapponesi perché i giapponesi sono malati tutto quello che è statuine modellini sono proprio persi in quell'ottica ha senso ok funziona è corretta l'operazione commerciale ma se la guardi dal lato videoludico a zero proprio totale non serve a nulla io avrei visto di buon occhio più un master system mini ad esempio o un saturn mini piuttosto che la seconda versione di una console mini già uscita capito è quello il problema però è è normale lo fanno perché il charpame vende i gadget vendono soprattutto lì ed è giusto ma poi alla fine ogni volta che fanno queste cose se tu guardi bene quando escono fanno le guerre per chi lo va a comprare non so se ti ricordi quando era uscito il scalper a non finire che comprano 30 pezzi poi li rivendono a 300 euro esatto ma poi lo compri e non è uguale all'emulatore perché l'emulatore stranamente fa più cose quello vabbè beh per quanto il Mega Drive Mini fatto da Sega quello che è uscito l'ultimo era già avanti e da questo punto di vista aveva un'ottima qualità tranne alcune cosine era molto meglio rispetto ai vecchi Mega Drive Mini che avevamo visto poi se ci si mettono le mani sopra un po' che qualcuno diciamo sta lì un po' a smufficchiare fa qualche modifichetta giusta il problema e tu lo vedi subito perché te ne accorgi è che non c'è nessun progetto a lungo termine dietro questi prodotti sono effettivamente tipo la stregua dei portachiavi a forma di console ecco perché se ci fosse un minimo di di veduta verso il futuro potrebbero uno metterci un chip wifi dentro che costa un dollaro un chip wifi ce lo metti dentro e già gli dai la connessione due fare un cavolo di shop online da cui puoi comprare le console i giochi ecco perché quello ti risolvi ti cambia il progetto da così a così diventa tutta un'altra storia e in quel caso valevole di un acquisto invece che comprare il solito gadgettino da mettere sulla mensola capito? però non lo fa nessuno questo perché non è conveniente allora interessa solo monetizzare velocemente non spendere nulla in termini di assistenza perché se tu cominci a mettere servizi shop allora lì puoi avere un servizio di assistenza gente che risponde al telefono e tutto il resto capito? non interessa non interessa monetizzare sulla plastica perché vendono una plastica perché dentro ci sono pure poche rom 50 giochi sì sono due 50 giochi va beh e basta ed è un peccato è un peccato perché va beh che sono consolmini e hanno la dignità che hanno insomma però tu le svaluti ancora di più non dandogli nessun modo per vivere capito? crei una una vita commerciale brevissima che è semplicemente quella da quando viene prodotta all'esaurimento scorta è fine capito? ed è brutto è immettere nell'ambiente spazzatura comunque dalla chat ci dicono inutile che fai così lo sappiamo che lo compri sì ma io lo compro ma ragazzi io lo compro anche uno per farlo vedere in video due perché sono io un idiota maledettamente curioso quindi devo sempre guardare tutto aprire scoprire come funziona e tutto quanto quindi alla fine per esempio questa cosa qua sopra non so se la vedete la play aspetta ti provo a mettere tutto schermo aspetta un attimo sì è la l'abominio creato da sony no si vede la playstation la playstation mini sì e la ps1 mini quella è proprio l'emblema dell'inutilità e l'ho comprata ma perché proprio sono curioso io devo capire devo scoprire poi l'ho messa lì il primo giorno che devo fare le pulizie spolvero la butto ma non è vero la butto no non credo non ci credo mi dico beh probabilmente la sventrerò ci metto dentro un raspberry esatto qualcosa ne farò comunque guarda sempre rimanendo nel tema dalla chat ti dicono la miga 500 come ti è sembrato ecco la miga 500 mi è sembrata la stessa operazione né più né meno del del c64 mini esatto anche quello è un ammenicolo per collezionisti col portafoglio che sgronda il mio non sgronda infatti lo faccio urlare lo spremo non esce più niente ormai l'ho comprata lo stesso adesso spero di farlo vedere in video quando mi tornerà la voglia e il tempo di poterci lavorare al video però anche quella non ha alcun senso e alcun motivo di essere comprata lo dico già è impossibile andare a riprodurre tutta diciamo l'enfasi che c'era in quel periodo specialmente attorno a console come il commodore 64 l'amiga anche perché non solo si parlava di giochi ma si parlava anche di musica tantissimo in quel periodo la chiptune fatta con il commodore era parte stessa della scena del video gioco con il seed e mettere un seed dentro il commodore mini ovviamente non impossibile ma proprio non esattamente per quanto tu comunque possa farci musica anche con l'emulatore se vuoi sì certo però nel senso per il purista avere il seed esatto la fanno in pochi uno bisogna avere le conoscenze adeguate per iniziare a fare quel tipo di musica e poi se sei così tanto appassionato ti recuperi un seed c'erano due chip poi mi sembra del seed che suonavano in maniera lievemente diversa anche lì super diatriba tra quale suona meglio quindi tutte queste cose sono impossibili da riprodurre oggi sì ma poi si parla più di sensazioni che di altro anche anche la miga mini per esempio per poterla sfruttare a pieno avrebbero dovuto fare una cosa bellissima che poi hanno fatto con il C64 quello maxi non mini cioè dargli la tastiera esattamente perché proprio come il C64 anche la miga ha moltissimo software per cui hai bisogno della tastiera e attaccarcene una è un po' una rottura di balle vabbè che è piccolo così la tastierina però avrebbero potuto comunque farla funzionare perché comunque è abbastanza grande da poterla premere anche solo per impartire due o tre comandi perché ad esempio poi questa cosa ne parlerò nel video quando tu vai a caricare giochi esterni perché ti dà la possibilità di farlo li metti su chiavetta li butti dentro e c'è il loader che te li carica quelli non supportano la tastiera on screen virtuale o che sui giochi inclusi la puoi attivare quindi già ti preclude un mondo dal Monkey Island che ci devi mettere il codice all'avvio per farlo antipirateria per farlo partire a tutta una serie di prodotti che hanno bisogno della tastiera non li puoi utilizzare a meno che non ce ne attacchi una vera ed è una porcheria a un certo punto cosa mi serve a questo punto mi scagge dico il animatore quello non ha senso non ha proprio senso questa cosa no è che in attimo Claudio ci è avuto un po' di lag un attimo ecco perché ci è avuto eh vabbè spero che si sia capito sì sì si sia capito comunque Claudio come ti avevo detto all'inizio cerco di fare lo show sempre come se fosse un format televisivo e come ti avevo detto all'inizio è il momento del marchettone allora l'anno scorso hai pubblicato il libro thank you for playing ti ho comprato e che un letto bravo e che aspetto adesso che mi dai l'indirizzo perché voglio l'autografo vabbè ma ci vedremo da qualche parte e muoviti muoviti e di dove siete voi ragazzi noi di Ancona Ancona dai ti invitiamo uno fine settimana e via e per il centro Italia mi manca come beh posto inizi con la riviera del Conero ti portiamo in giro al mare cibo e via le fiere ci sono dei videogioco del fumetto c'era stato il Falcomics il Falcomics che quest'anno è stato anche molto carino perché gli organizzatori erano quelli del Luca Comics e di fatti si è vista l'organizzazione è venuto fuori in quel festival con diciamo concerti anche abbastanza importanti Giorgio Vanni Cristina D'Avena e però dopo c'era l'Ancona Comics qual era come si chiamava l'Ancomics ma quella è più compra fumetti e basta non è niente esattamente che è vabbè ci venite a Luca ma si ma si adesso veniamo probabilmente quest'anno si dai ci vediamo lì ti devo venire a rompere i coglioni ho capito andata comunque momento marchettone allora per oltre 410 pagine parli di 16 sistemi di videogiochi del passato trattati attraverso veramente racconti emozionanti perché tutti cerchi di essere il più preciso possibile e i documenti al millimetro condisci il tutto con decini di curiosità ed easter egg con tanti ricordi personali sulla cultura pop del periodo soprattutto nostrana che non è universale ma proprio quella italiana quello che mi chiedo è come mai è cambiato così tanto il parere verso il modo di vivere noi videogiocatori mi spiego perché se ricordi a fine anni 80 primi anni 90 noi eravamo quelli di nicchia noi eravamo quelli brufolosi che non uscivano mai dalle cantine mentre adesso siamo sembra come The Big Band Hero noi siamo degli eroi che sanno molte cose soprattutto possono ci si fanno tesi di laurea su questi argomenti come è cambiato così tanto secondo te questo modo di vivere cosa ha scatenato e lì una grossissima manona ce l'hanno data ai sistemi a 32 bit soprattutto la Playstation quando il marketing diventa totalmente preponderante da far sforare al media videoludico l'ambito di noi nerd e a penetrare quello della cultura pop quando tutti i personaggi più in voga non erano più solo sulle copertine delle liste di videogiochi ma anche su Vogue su capito quando Lara Croft era diventata una modella da abbigliamento per per signore ecco e non era più squadrata e non era più squadrata aveva le tette non più a piramide quindi ricordiamoci questa cosa importante che però un po' ci mancano quelle tette ci mancano le tettone piramidali è stato è stato quello è stato un una normale evoluzione del medium tale che ha per importanza è diventato molto più preponderante rispetto al al suo passato ed è arrivato in ambienti in cui il 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 a a a a gente che non mi si sente sì 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 ma adesso sì ok 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 sono è praticamente l'evoluzione che ha fatto un po' tutto il mondo dell'intrattenimento pensiamo all'inizio al cinema quando in realtà sembrava una roba fatta da satana con il treno che ti entra nella sala e ti uccide adesso è diventata una delle arti mondiali universalmente riconosciute la musica dai salotti dell'ottocento quando c'erano i ragazzini che cantavano con le voci bianche adesso alle icone pop che sono più importanti dei politici giustamente meglio loro sto punto direi e quindi anche il videogioco ha fatto ha fatto questa cosa ha saltato la staccionata ed è giusto così è diventato da genere di trattenimento di nicchia a moda e adesso è di tendenza e continuerà ad essere così perché ricordiamoci che nel frattempo le generazioni vanno avanti gente che domani sarà il nuovo presidente della repubblica e gente che da bambino giocava con lo super nintendo quindi le cose comunque andranno sempre in questa direzione pensa se il prossimo presidente della repubblica ha giocato a doom e ci sarà un problema sicuramente arriveremo in un punto in cui sicuramente sarà così se gioca a doom eternal mentre fa le riforme sarebbe un po' anche a Duke Nukem non sarebbe male non so se lo vedremo noi ma probabilmente diciamo che Idiocracy un po' ci si ispirava non so se conoscete Idiocracy il film io sì con com'è che si chiamava poi ci sono anche politici Camacho Camacho poi però ci sono anche politici molto giovani di 20-30 anni che sembra che ce n'hanno tanta però vabbè lì poi si apre un mondo comunque una cosa abbiamo iniziato a parlare così brevemente di film ma io so che tu sei da quello che ho letto su internet sei un amante del cinema e sarebbe facile chiederti quale tra i tanti film è il tuo preferito però io siccome a me siccome piace fare le domande bastate ti chiedo questo quale tra i troppi i film ispirati ai videogiochi e videogiochi reputi il meno peggio oppure proprio uno che ti piace veramente eh ma qui è abbastanza facile allora te ne dico due te ne dico due per caso uno è quello meno peggio uno inizia con la S giusto? di Savona ed è quello meno peggio esatto è sempre quello l'altro è quello che mi piace ma è più un ghi guilty pleasure guilty pleasure giusto come dicono ad Ancona allora quello che sicuramente è il più riuscito senza contare gli ultimissimi perché gli ultimissimi sono effettivamente più riusciti perché tu stai pensando che io adesso dica Sonic giusto? no io pensavo a Silent Hill bravo e infatti stavo proprio per dire quello perché tra i più riusciti sicuramente Sonic è uno dei dei migliori però quando ancora il videogioco non era non viveva dello stato di grazia mondiale che vive adesso all'epoca effettivamente il primo Silent Hill film fu sicuramente uno dei più riusciti invece come Guilty Pleasure ti devo citare il primo Resident Evil quello con la Jovovich però è banale pensavo a un Super Mario capito con Boboskitz Super Mario non lo salva niente nessuno non c'è non c'è modo di salvare Super Mario ma Guilty Pleasure è quello invece no no Guilty Pleasure è il primo Resident Evil sì perché aveva qualche trovata molto interessante per quanto non c'entrasse niente con Resident Evil ma nessuno che omina Far Cry è quello di U-Ball non omina nessuno allora io U-Ball lo prenderei lo legherei stretto e lo butterei in qualche carcere dell'Afghanistan e ce lo lascerei là dentro per sempre a vivere distenti ma noi ha fatto non è possibile ma noi ha fatto un film action è andato a GameStop ha cominciato a guardare i titoli Far Cry ok lo chiamo così cioè non c'entra niente nemmeno esatto Alone in the Dark una merda totale Blood Rain un'altra proprio una roba però quelle già sono produzione comunque serie C se ci pensi a produzione serie A dove ci hanno investito i soldi il film fa schifo è Max Payne no 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 te lo dico io uno di U-Ball veramente eh U-Ball The House of the Dead bello che mischiava terribile splatter fatto male con scene del videogioco a caso a caso c'è una persona una ragazza che scappa ahhh e a un certo punto si vede schermata del videogioco in cui senza motivo sto morendo è l'effetto U-Ball appena dico U-Ball esatto madonna no per te è innominabile per te è innominabile questo quindi lo chiameremo l'innominabile ha rovinato il cinema dei videogiochi U-Ball ma perché prendeva film così e c'è che fava il titolo del videogioco in mezzo ma poi ha preso tanti di quei finanziamenti pubblici dallo stato della Germania adesso non so come è possibile che gli finanziassero tutto sto ciarpame tutto sto pattume non si sa misteri allora torniamo a diciamo sul tema centrale proprio del videogioco usciamo un pochino dal mondo del videogioco connesso al cinema hai già parzialmente risposto un po' prima a questa domanda che praticamente è come vedi l'attuale momento videoludico tenendo in considerazione anche i servizi di streaming diciamo vari store download vari e inoltre dato che ormai il videogioco è diventato un fenomeno di massa come dicevi anche tu prima tanto da essere ormai parte della cultura pop specialmente tra i giovani quali credi che siano le maggiori differenze tra passato e presente videoludico e come pensi che tale discordanze abbiano influito sul mercato del gaming e aggiungo una cosa prendo la palla al balzo per chiederti anche una cosa che ha scritto in cerca di me stesso si chiama Stefano come è? si è Stefano ok che ha scritto Stefano in chat tutte queste cose queste domande che ti ho appena fatto pensando anche ovviamente all'era pre-internet allora il videogioco per sua stessa natura è uno di quelli uno dei medium che si presta di più ad una virtualizzazione totale un po' come è stato per la musica per il cinema adesso sicuramente anche il videogioco proseguirà per quella strada prepariamoci ad un futuro diametralmente opposto rispetto a quello che stiamo vivendo adesso che ancora siamo in un periodo un po' di transizione prepariamoci ad un futuro in cui esisteranno servizi da fruire come dove vogliamo senza alcun limite né di hardware né di aree geografiche se non solo per una questione di licenze e tutto quanto vabbè anche se con le vpn ormai insomma praticamente puoi far tutto e prepariamoci ad avere semplicemente la nostra app per esempio playstation no? da far partire ovunque ci troviamo e ad avere la nostra libreria lì online raggiungibile da qualsiasi da qualsiasi parte quindi io sto parlando di streaming perché a un certo punto smetteranno di farci installare i giochi o quantomeno lo faranno un po' come si scaricano i film da Netflix quindi creando dei file criptati sul dispositivo in cui che possiamo utilizzare in quel momento ma non è detto perché il dispositivo deve avere della memoria ok ma la maggior parte insomma dei giochi sarà tutta quanta in streaming online quindi prepariamoci a un futuro di questo tipo ovviamente un attimino ti chiedo una cosa da fuori un po' Steam Deck come la vedi diciamo verso questo tipo di servizi come console no allora Steam Deck è essenzialmente un pc basta cioè ci fai le cose che fai col pc è un pc che parte o in big picture mod non so come si chiami la versione quella lì tutto schermo di Steam oppure col desktop e c'è dentro Linux quindi è essenzialmente un pc ci fai tutto quello che ci fai col pc c'è la sua memoria eventualmente ti scarichi i giochi e le installi se no puoi anche giocarci in streaming con i servizi che ti permettono di giocare e questo è un pc portatile e infatti il costo è quello da pc portatile essenzialmente non è una console votata allo streaming non è un che ne so adesso c'è la notizia che la Microsoft dovrebbe lanciare il suo dongle no HDMI da attaccare dove vuoi tipo quello di Google da usare appunto per giocare solo in streaming ecco quelli sono dispositivi che nascono per il gioco in streaming ma Steam Deck è semplicemente un pc come è sempre stato e come l'hanno sempre venduto io adesso ce l'ho da qualche giorno e lo sto testando ed è impressionante perché fa girare anche cose che effettivamente tu dici ma com'è possibile che di questo gioco che esiste solo la versione Windows io riesco a installarlo e a giocarci lo stesso quindi ti faccio una domanda che te la scrive non essendo una cosa Windows poi te la WAPI78 quindi che test hai già fatto con la Steam Deck che versione hai preso allora ho preso siccome io sono ti ripeto come ho detto anche prima il curiosone sconsiderato ho preso quella da 512 ho fatto il mutuo in banca ho venduto un rene e adesso sto provando tutto tutto allora ho cominciato con tutta la mia libreria Steam a scaricarla e a giocarci e ho riscontrato una compatibilità incredibile alcune cose vabbè era chiaro che non potessero partire perché molto vecchie però per esempio altre cose ancora più vecchie partono ed è strano ad esempio mi parte Dark Forces ma Crisis ci gira il test fenomenale mi parte Star Wars Dark Forces un gioco basato sul motore grafico di Duke Nukem e gira pur non avendo una versione almeno che io sappia Linux boh mi gira robe come Deponia lì non so se c'è la versione Linux ma gira si installa tranquillo mi gira sul river Legacy of Cain sul river mi gira non so che magia possa essere questa cosa perché non mi risulta che ci sia una versione Linux di sul river vabbè e insomma quindi però molte altre cose non vanno ma è chiaro insomma o vanno un po' tra ci gira addirittura ho provato Pandemonium il gioco per la PS1 però in versione PC e gira funziona e poi ho cominciato a provare tutti gli emulatori esistenti allora la cosa bella è che sul sul suo store diciamo così interno a cui accedi tramite la la parte desktop sul repository praticamente ci sono una serie di emulatori già pronti di scarichi di tirare giù dal retro arc fino a che ne so SNES 9X no c'è c'è Citra c'è Dolphin c'è di tutto PCSX2 c'è di tutto spero che mi sentiate io non sì sì ti sento ti sento ti sento benissimo ok l'importante è quello e ho cominciato a provare emulatori ovviamente è la la meraviglia più totale per gli emulatori ci gira praticamente tutto ho giocato a giochi PS2 a 60 FPS fissi giochi Gamecube a 100 FPS roba del vabbè il Dreamcast gira al mondo ok adesso sto testando i giochi Xbox la prima che vanno lentini però credo che io sospetto che non sia per demerito dell'hardware ma sia più una questione dell'emulatore che è ancora un po' embrionale e gira di tutto perché essenzialmente è un PC ed è una meraviglia purtroppo però costa come un PC e quello è il problema quindi secondo te è stato un rischio un po' di Valve far uscire una console come Steam Deck allora tutto tutto l'hardware è un rischio a meno che non ti chiami Nintendo tutto l'hardware è un rischio e direi che invece è stata una buona cosa perché ti dà proprio la possibilità di portarti l'80% della libreria Steam che hai in portatilità che è una cosa veramente figa questa e non si parla di streaming non si parla di remote play si parla di scaricarsene installarseli ecco e questa è una cosa veramente figa è la vera prima Steam console sai che c'erano le Steam console una volta è portatile ed è una cosa meravigliosa poi tra l'altro è compatibile con tutti i dock USB-C quindi eventualmente tu la puoi attaccare anche la tv la guardi con la tv però poi giustamente hai bisogno di un pad esterno insomma un pochino più complessa la cosa però era un hardware che ci voleva per l'utenza PC e il Nintendo Switch per il PC Gamer fai conto ecco questo ed è quello che avrebbe dovuto fare Microsoft se avesse avuto le palle di buttarsi nel mondo degli handheld comunque ti posso dire questo io fino adesso compreso te ho parlato con tre persone che hanno lo Steam Deck a due persone gli sono esplosa la batteria attento non dura molto la batteria arriva a tre ore scarse e poi muore no ma proprio non si accende più non si accende più non si accende più e dà il feed tattile sempre più dunque in gear quindi va benissimo comunque una cosa ritornando alla domanda che ti aveva fatto Luca di come vedi il momento attuale videoludico hai detto che d'ora in poi dovremmo pensare di ritrovare l'icona quella Playstation come se fosse l'icona Netflix esatto ma quindi secondo te il mercato retail esisterà sempre meno? secondo te sì il mercato retail tu vedrai che continuerà l'evoluzione che già sta avendo se tu vai dentro un GameStop i videogiochi ci sono sì però hanno anche le magliette le tazze i pupazzi i lego e tutto secondo me a un certo punto il retail passerà da negozio di videogiochi a negozio di oggettistica e di collector fisiche perché ricordiamoci che c'è sempre comunque un piccolo mercato di gente che si compra la bara annuale di Assassin's Creed in cui dentro c'è il pupazzone e l'artbook ad esempio collector così un po' anche magari stanno venendo su parecchi negozi dove ti fanno le limite non so tipo limited run esatto esatto quelli sono solo online e hanno una nicchia di appassionati importante anche perché comunque chi vuole il fisico c'è sempre e continuerà ad esserci esatto però i negozi fisici avrà la sua versione da collezione esatto negozi fisici vedrai che cominceranno a vendere limited o gadget come già fanno però a un certo punto finirà come il mercato pc tu pc da gamestop ne compri più giochi no perché non c'è niente dentro la scatola del gioco pc c'è un codice e quello finirà così ti posso dire che conosco un ragazzo proprio fisicamente che ha comprato l'edizione fisica di Alderri vabbè l'ha comprata così solo per eh ma allora c'era anche la statuona di no no l'edizione no no l'edizione base quella ah vabbè si si ci sta ci sta comunque variando Stefano ha detto sono io lo so è lui variando completamente il discorso sei anni fa sei diventato padre si di Gabriele e la foto che hai messo su facebook è un capolavoro cioè lo ritravi col completino con le figie del gameboy proprio prima foto l'unica poi perché a me non piace spiattellare fai bene la prole su internet fai benissimo però quella foto è bella ed è graziosissima cioè adesso no che tanto ormai ha sei anni credo o li sta per compiere si li fa quest'anno a dicembre e come lo avvicini tuo figlio al mondo di videogiochi sempre se lo vuoi avvicinare e soprattutto a quali titoli gli farai giocare e prenderà la stessa passione del padre è difficile questa cosa io lo sto notando adesso che sta crescendo è complesso allora una cosa che manca in un bambino che cresce con un genitore come me ad esempio è la voglia di scoprire è la voglia di la meraviglia capito perché ha già tutto cioè nel senso si trova in una situazione in cui non non gli viene la curiosità di dire ah ma quel gioco guarda l'ho visto giochiamoci perché probabilmente ce l'avrò già quindi per lui è la normalità averceli capito non era come me quando ero piccolo che sognavo ah magari mi comprerò il super nintendo pipipipipipi per lui è la normalità e quello è un po' da un lato un po' triste perché si perde un po' la voglia di sognare il videogioco ecco che è una cosa importante però dall'altro lato gli mette già sotto mani tutta una serie di strumenti che potrebbe approfondire lui ora come ora vive di roba fisica a parte gli ultimi tempi che si sta appassionando a giochini sul tablet centellinati ovviamente tipo versioni virtuali di cose fisiche ad esempio lui c'ha che ne so si chiamano gravitracks sono tipo delle sistemi di piste con le biglie che fanno dei giri eccetera che ha lui c'ha proprio no no le ritornerai dai cose da montare no che ha i pezzi infiniti che non devi comprarli quindi lui si fa le piste e crea appunto questi questi giri poi per il resto è molto ancora nello stadio della fisicità nel senso gli piacciono le macchinine quindi adesso ha tutte le sue macchinine fare toccare il Lego capito quindi non gliene frega tanto quando lo metti davanti al videogioco però lo vedo che è interessato però sempre come per dire sì papà io queste cose già le so cosa sono non mi interessa voglio vedere altre cose capito che non ho perché io per esempio macchinine non ho mai avute nella mia vita e lui adesso vuole le macchinine capito io i Lego non li ho mai avuti non sono un bambino che è cresciuto con i Lego allora lui vuole i Lego capito quindi è sempre quello che gli interessa è il riflesso di ciò che non ha perché lui è interessato a qualcosa che vuole scoprire invece il videogioco per lui è una porta aperta capito non è attrattiva da questo punto di vista è un bellissimo discorso quello che hai fatto semplicemente e te lo dico con il cuore perché proprio oggi pomeriggio ho litigato con il vicino perché il figlio urla come un dannato perché probabilmente gioca uno di quei giochi su tablet non so e diventa un po' un demonio si sente urlare dietro casa ed è devastante perché urla ma lì devono essere i genitori che pongano un freno si ma urla è un delirio infatti oggi ho dovuto fare la classica scenata napoletana mettermi a urlare dalla finestra era devastante perché alle due e mezza ma perché urlava come se non so quando noi perdevamo le 500 lire al cabinato ah si anche noi urlavamo come i pazzi si però negli arcade nelle sale giochi non dentro casa perché a casa ci dicevano tutti i colori a meno da me io ancora ho un pad del NES con le impronte dei miei denti e lo so ma è normale questa cosa però l'importante è che i genitori siano presenti e dicano no senti adesso ciccio calmiamoci non erano presenti ecco perché questo è un discorso che gli faccio anch'io magari lui si incazza che le macchinine guarda che ti tolgo tutto stai attento questa qui è proprio la minaccia suprema è giusto comunque per esempio io questa cosa la vedo perché c'è mio fratello che anche lui ha due figli uno il più grande all'età del mio praticamente è un pochino più piccolo di un anno e lui di contro dato che mio fratello non è mai stato un amante dei videogiochi siamo cresciuti insieme abbiamo giocato insieme però poi lui a un certo punto si è stufato si è comprato altro la moto stai cazzando ok il bambino che non vive in un ambiente saturo di videogiochi adesso è portato ai videogiochi infatti mi ha detto senti ma a me la giri una di quelle consoline con Super Mario perché ho il bambino che è matto vuole giocare con Super Mario cosa che mio figlio invece ne frega proprio niente perché Super Mario l'ha visto in tutte le salse e gli è proprio vabbè e vabbè crescendo insomma vedremo insomma allora prima di farti una domanda di rito ti porto una domanda sempre di Stefano che ti chiede anzi ci chiede anche a noi cosa vi manca dell'era pre-internet poco e niente a me niente poco e niente no ragazzi allora io con internet uno ci ho trovato l'amore bravo perché io la mia compagna l'ho conosciuta sulle chat di Irk pure io all'epoca l'avevo conosciuta lei portata lei da per giri traversi da altri amici eccetera insomma non era proprio avvezzissima però poi abbiamo cominciato così allora quindi ci ho trovato questo ci ho trovato il lavoro infatti io ci lavoro con internet perché comunque faccio il grafico web designer internet è una fonte inesauribile di informazioni di tutti i tipi basta saper trovarle e valutarle perché ci trovi anche le minchiate giustamente e internet è fondamentale avrebbe dovuto essere inventato no più che altro il resto pubblico già da tanto tempo prima di quando è stato poi il resto pubblico secondo me perché ha cambiato veramente tantissimo ha cambiato il mondo ha cambiato il mondo non sempre in bene questo no 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 però comunque sia l'ha cambiato ma l'ha cambiato diametralmente è vero e molto di quello che è stato il nuovo che ha portato internet è un buon nuovo è un buon nuovo almeno per quanto mi riguarda se parliamo dei social invece se parliamo dei social io i social li chiuderei tutti subito e io come ti contattavo se non c'eri social la lettera la mail la mail quella la teniamo ok ecco i social sì quelli sono uno schifo totale io li cancellerei dalla faccia della terra perché fanno solo male secondo me vabbè però internet ci ha portato bello figo quindi ecco eh vabbè la ricarda figlio dei suoi tempi crescerà anche lui e diventerà bello nonno Gu no io invece qualcosina diciamo qualche mancanza la sento ma uno la sala giochi a me piaceva un sacco stare in sala giochi nonostante sia bello anche giocare online da casa in comodità per carità però un tantino l'uscire e stare in sala giochi un po' mi manca sì 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 un'altra cosa che a me manca è la rivista cartacea cioè l'emozione della rivista cartacea io oggi quello sì non riesco a trovarla da nessuna parte tu pensa che io mi abbonavo le prime volte alla tesserina di GameStop no perché mi davano solo perché mi davano il Game Informer da leggere seduto sulla tazza la mattina giusto quando me l'hanno messo digitale io pianto proprio pianto perché è stato proprio un colpo al cuore io quello lo volevo il Game Informer niente sì sì le riviste cartacea però giustamente poi pensi dall'altro dall'altro canto della questione risparmio di carta che è una cosa importante sì 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 ovviamente dopo dietro stanno altri la freschezza delle informazioni che giustamente gli altri discorsi certo ti arrivava un'informazione con la rivista che magari era di un mese prima però comunque sia sfogliare le riviste leggere i vari pareri di quelli che tu consideravi all'epoca esperti videoludici un sacco di riflessioni fighe purtroppo quella cosa non mi manca l'ho rivistuta ultimamente cioè ultimamente fino a qualche anno fa con videogiochi e poi dopo di videogiochi è diventata retro gaming mi sembra la rivista e poi fine adesso c'è qualche progetto adesso c'è qualche progetto tipo Ludens ce ne sono di di gente valorosa che che porta avanti i progetti di questo tipo e ci sta insomma alla fine un modo per portare avanti questo questa industria è puntare alla nicchia appunto di chi come te o come me anche aspira ancora a quel genere di supporto però per la massa è normale che sia diventato tutto virtuale è la cosa più corretta a livello di evoluzione è giusto che sia diventato così però l'emozione di andare in edicolo e comprare il cd con le demo quello è sì sì beh quello era un'emozione che trovavamo noi oddio poi ci trovavi la metà delle demo erano tutte stupidaggini che non avresti mai giocato tornerà? sì 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 certo che torno è un problema di là ci senti Claudio? sì sì sono tornato perfetto perfetto sì sì e altra domanda che ti fanno dalla chat a cosa stai giocando? allora attualmente ho sto portando avanti adesso non mi ricordo neanche più come si chiama perché è un titolo difficilissimo è quello che è uscito poco tempo fa sul Game Pass del Samurai tutto in bianco e nero Trip to Yomi Trip to Yomi l'ho provato un'ora l'ho tolto subito no no quello mi piace molto mi piace lo stile sto mandando avanti quello e poi sto recuperando io per i nomi è un disastro infatti come si chiama quello lì di Ubisoft con con le divinità tipo Zelda ah ok ok Fenris 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 bravo Immortals Fenris Immortals bravissimo non l'ho provato non l'ho provato quello bello 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 molto molto Zelda Breath of the Wild e allora bisogna dargli un'ora no io ho finito ho finito oggi Spider-Man Miles Morales quindi visto che hai tirato fuori Zelda Breath of the Wild l'hai visto il trailer di Sonic Frontier no di Sonic Frontier sì il nuovo gameplay trailer allora guardalo me lo sono perso ci risentiremo e ci dirai cosa ne perde perché me lo accomuni a Zelda eh guarda il trailer guarda il trailer e poi dopo va bene io invece mi aggancio a Luca che sempre con i trailer che ha citato non so se hai visto che è uscito il trailer tanto sei un fan inutile perché c'hai un mega poster sulla porta è uscito il trailer Street Fighter 6 eh beh sì cosa ne pensi di quel trailer allora io con Street Fighter soprattutto sugli ultimi ho sempre un problema di amore e odio incredibile perché partono male malissimo perché io ogni volta che trovo che gioco con un nuovo Street Fighter ho sempre problemi ad ambientarmi mi cambiano tutti i timing mi cambiano tutto migliorano tantissimo quando poi fanno le re-release tipo le arcade version le ultra eccetera e e poi distruggono di nuovo tutto facendo uscire una versione successiva in questo caso il sesto adesso quindi non so cosa aspettarmi sicuramente ci giocherò all'inizio ho giocato con col 4 e con il 5 il 5 l'ho adorato a differenza del 4 che l'ho un po' odiato poi l'ho rivalutato in seguito quando sono scelto gli aggiornamenti vedremo cosa ne pensi dell'open map sì ma più che quello è lo stile grafico che mi ha un po' disturbato perché è un'estremizzazione del 4 il 4 aveva tutte queste macchie di colore di inchiostro adesso tu le lasci pure per terra le macchie di colore di inchiostro non ha cioè mi sembra un po' un'esagerazione sta cosa a me ha ricordato tanto i capitoli alfa ah sì sì io quelli li ho scoppiati proprio quelli ricordava più lo stile sì però adesso c'è sta esplosione di colori e di un po' esagerato è un stile proprio dipinto quasi molto più dei 4 le 4 erano pennellate nere esatto avevano quelle pennellate adesso hanno aggiunto colore l'alfa era proprio un segno stile manga quasi la versione giovanile del 2 a me no ti dirò che l'open world diciamo lasciami a sperare no diciamo più che altro è una mia speranza quella di vedere una modalità fatta similmente a quanto visto in soul blade con lo story mode magari dovevi delle quest per andare tra le altre o se no non so se conosci la modalità dojo di virtual final 4 sì sì anche quella lì diciamo di vedere una qualche evoluzione di queste meccaniche non mi dispiacerebbe per niente sì è un modo di quello è perché sicuramente lo utilizzeranno come base per i tornei gli sports e tutto quanto però giustamente lo devi vendere anche a chi vuol giocare una campagna e allora lì sì è ovvio che se le inventino tutte speriamo che sia riuscita insomma speriamo speriamo dai speriamo bene allora plato87 ti chiede sega ha iniziato a realizzare molti remake partendo da the house of the dead ne farà altri cosa ne pensi io ti aggiungo io non solo di sega ma cosa ne pensi proprio dei remake allora io penso che se si tratta di remake allora ci sta tutto possono farne quanti ne vogliono per quanto mi riguarda tipo capcom con il resident evil va benissimo se si tratta di remaster tipo prince of persia sense of time che adesso l'hanno rinviato ancora di nuovo nel 2000 mai allora no no è inutile è tutto tempo perso proprio secondo me le remaster sono tempo perso soprattutto adesso in una situazione in cui puoi giocarti giochi soprattutto su xbox di tre generazioni prima ok quindi il modo di recuperare quei titoli tu ce l'hai non hai bisogno della remaster se invece sono se sono dei remake fatti bene allora si allora si spero che ne facciano altri e che che diano giusto valore a giochi storici quindi tipo sempre aspettando adesso che tutte le ip ex square di core di crystal dynamics e tutto quanto sono passate ad embracer io adesso mi aspetto che mi facciano sul river remake maledetti ecco non dico il primo blood amen no no ma almeno sul river no io invece non so se riesci a sentire sempre della categoria remake remastered l'anno scorso su itens sono stato letteralmente crocifisso perché ho detto che non c'è bisogno di un remake di dead di dead space perché non ci sarebbe bisogno no calisto protocol ok è una cosa a parte ma dead space no non lo comprendo però siccome c'è l'ipad 1000 su intri mi hanno letteralmente asfaltato tutti e sono rimasto come il pirla che odia i remake ma non è vero per quanto mi incuriosisca ci giocherò sicuramente soprattutto se hanno tolto Dario Argento come doppiatore 10 punti in più e però non c'era bisogno non c'era bisogno ne facevamo a meno sì ma più che Dario Argento direi di puntare molto di più sul Callisto protocol sì perché lo sviluppatore la mente dietro al gioco è la stessa di dead space quindi si presume che pur non essendoci il buon Isaac comunque si riveli un ottimo gioco però il remake lascia un po' il tempo che trova prima che fai una domanda voglio chiedere solo questa qua perché tutti parlano sempre del peggior doppiaggio e si ricordano tutti di Dario Argento ma te lo ricordi Morgan del Blue Vertigo sì 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 quello è peggio ma io mi ricordo doppiaggi marciissimi tipo il primo Hitman che aveva sì che da tutti dal protagonista all'ultimo dei nemici sembravano guarda degli alieni da come parlavano si potrebbe fare un episodio si potrebbe fare un episodio sui doppiaggi trash dei videogiochi mamma mia anche delle telecronache dei giochi sportivi e allora ti leggo un'altra domanda sempre dalla dalla chat cosa ne pensi della nuova versione di playstation plus per nostalgici e le varie diversificazioni che purtroppo finché loro retrocompatibilità totale con playstation 3 che non sia una cosa che debba giocarci solo streaming ma che io posso utilizzare i miei dischi non mi avranno non mi interessa non me ne frega niente io voglio la retrocompatibilità con la ps3 basta cara sony signor sony franco sony ti prego fammi ma soprattutto la retrocompatibilità siccome mi sembra avervi intravisto nel catalogo comunque tra i giochi in streaming della play s3 c'è comunque ancora batman arkham asylum mi vorrei capire chi è nel 2022 che gioca la versione ps3 quando c'è la versione ps4 rimasterizzata tutto qua chi ci gioca poi in streaming a 7.20 ma vabbè quelle sono cose che continuo a non capire che esistono allora domanda di rito passiamo un attimino a questa poi dopo ci saranno altre domande che leggeremo si stava meglio quando si stava peggio o no? quando si tenevano le porte aperte esatto no non c'è un modo per rispondere a questa domanda non posso dirti sì no bisogna sempre fare un distinguo riguardo le varie cose ecco se stava meglio se parliamo di videogiochi 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 certo sì però che cosa del videogiochi allora se parliamo della genuinità dei giochi sì si stava meglio quando si stava peggio se parliamo della possibilità di migliorare giochi che nascono male allora no meglio adesso perché vabbè che per quanto sia una rottura di balla e le patch comunque una volta il gioco te lo sparavano sulla cartuccia e quello era con tutti i suoi bug adesso quantomeno ci possono mettere una pezza quindi comunque questo è importante se parliamo di gioco in multiplayer alcuni ti diranno sì meglio oggi perché gioco online con la gente io ti direi no meglio una volta perché giocavo con gli amici a casa però adesso io amici a casa non ce ne ho più quindi non lo so quindi c'è sempre ma non stai rispondendo esatto ma guarda fai tutte le distinzioni e tutte le è difficile per ogni cosa c'è sempre il suo pro e il contro quindi è un po' un po' complicato rispondere in maniera univoca però dai tutto sommato sì adesso stiamo un po' meglio rispetto a una volta io ti dirò sono abbastanza d'accordo anche con la genuità dei giochi una volta ovviamente proprio per via del mercato ma anche dell'utenza a cui era rivolto il videogioco si osava di più però secondo me oggi c'è da prendere in considerazione il mercato indie e lì di cose belle se ne vedono ma anche di molto brutta sì 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 l'indie è un c'è tutto calderone però proprio perché questo calderone in mezzo al calderone trovi di di tutto anche delle belle perle sì per carità non che il mercato indie non sia soggetto ovviamente al tra virgolette le mode del momento vedasi poi rimetto in bagna eccetera eccetera o tutti quanti roguelike però diciamo che quello lì ha messo un po' una pezza a quella mancanza di creatività che si sente un po' nel mercato principale però vedi una volta la voglia di osare e la creatività veniva fuori da progetti AAA sì 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 apposta arrivava il Metal Gear Solid di turno e dicevi oh questo cambia le carte in tavola da questo momento in poi capito adesso invece sì tu guardi agli indie lo fai bene però sono progetti che difficilmente hanno la forza di imporsi quello sì purtroppo io sugli indie faccio sempre faccio sempre questa distinzione tutti pensano che sia un bel mercato tutto quanto io dico ok c'è Tunic che è un bel esempio di indie fatto bene ma c'è anche Ninja Pizza Girl cioè ragazzi c'è anche il marciume non è che ovvio c'è tutto quanto il bello del mercato indie è che puoi trovare di tutto è proprio quello lì invece da un punto di vista del AAA probabilmente anche il mercato e il modo di offrire dei videogiochi è completamente cambiato quindi si osa molto meno rispetto al passato Claudio è perlomeno sempre più difficile innovare ed evolvere il videogioco perlomeno come lo conoscevamo noi il tuo Goti 2021 fammi pensare di giochi usciti nel 2021 oppure che hai giocato nel 2021 non importa guarda allora io nel 2021 ho giocato un gioco molto molto bello che molti hanno giocato però prima mi sa che è Resident Evil Village che mi è piaciuto tantissimo non lo metterei proprio come Goti però ti dico quelli che mi sono rimasti un po' più impressi perché io adoro il Resident Evil in prima persona io dal 7 in poi ho detto ecco questo è quello che doveva diventare Resident Evil sì però il 7 era ben fatto l'8 è un po' così vabbè c'è di tutto poi l'8 è pieno di minchiate lo so però è bello perché ti dà la possibilità di è un 7 in versione espansa è un po' la versione 2.0 di quello che era il 7 dopo che uscivi della casa dei Baker sì perché per carità nel 7 c'era il sottomarino che ti veniva voglia di virarti da solo perché per carità la nave il sottomarino quel che è però nell'8 dopo Lady Dimitrescu ti becchi quella specie di trebiatrice verso il finale che dici cosa sto guardando cosa sto guardando sì però la Dimitrescu è un bel vedere comunque rimane sempre verità per quello c'è un altro tipo di beh poi vediamo cos'altro giocato l'anno scorso ah cavolo il gioco dei mi si sente? vi vedo? sì 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 non ti preoccupare oh vai vai sono frizzato mica? no per niente vai tranquillo ok il gioco dei guardiani della galassia è vero che bello sì mamma mia l'ho adorato quello lì meraviglioso oppure fammi pensare non sono usciti anche quest'anno Ghostwire ti è piaciuto Ghostwire? ti è piaciuto Ghostwire? sì per quanto sia estremamente limitato in tutto sì e anche molto molto ripetitivo però io quando vedo strade illuminate dai neon Giappone in tutte le salse Tori sotto cui passare e tutto il resto io mi sciolgo già il gioco ti ha catturato allora ne approfitto per chiederti una cosa che ti non te la chiedo io te la chiedo Plata 87 il viaggio in Giappone il viaggio in Giappone quello mi è rimasto qua qua ragazzi prendetevi conto la sfiga allora ho organizzato tutto più di un anno di organizzazione ok questo addirittura c'era pure gente che doveva fare il viaggio con me come viaggio di nozze ok ok già tutto organizzato biglietti eh pandemia mamma mia no quindi lì ho detto o è il creatore del cielo della terra che mi sta dicendo qualcosa tipo non c'è andare oppure è la mia sfiga totale e globale che ha fatto un riassunto di tutti i miei anni di sfiga da quando sono nato fino ad adesso e si è accanita sul 2020 oppure Miyamoto probabilmente e niente ragazzi quindi dal 2020 si sarebbe dovuti passare dal 2021 infatti la speranza era che la pandemia fosse una cosa da poco ma come sappiamo bene ecco 2022 niente perché il Giappone è chiuso il Giappone è chiuso non puoi andarci come visitatore come turista vedremo l'anno prossimo però a questo punto è un po' difficile secondo me niente passa tutto in cavalleria purtroppo niente non c'è speranza io non posso andare in Giappone perché c'è il destino che non vuole che io vada in Giappone non ci sono mai stato neanche io quindi che sfiga madonna che sfiga allora altra domanda che ti fanno quale sarà il prossimo episodio della serie regolare e perché proprio il Dreamcast allora io non lo dico però durante questa nostra live ho pronunciato il nome della console che si vedrà nel prossimo episodio e non è quella che hai detto tu perché non l'ho detto io non è uscita dalla mia bocca quella parola te l'ho detto io quindi riguardatevi tutta l'intervista dall'inizio mettetevi giù ti hai messo anche l'ister egg in queste interviste ti hai messo l'ister egg quella sarà la protagonista della prossima puntata comunque io ti ho parlato prima del libro che io comunque l'ho letto ed è bello perché racconta veramente uno spaccato dell'italiano nel periodo 80-90 è quello poi lo racconti proprio con aneddoti che è divertente ha soddisfatto i risultati delle vendite oppure sì 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 allora più o meno abbiamo raggiunto le tre migliaia di copie vendute cavolo e il libro è ancora disponibile perché ne sono state stampate tante copie quindi compratelo compratele mi raccomando su Amazon lo trovate costa poco costa niente compratelo sono 450 pagine poi ricordiamo quindi sono abbastanza soddisfatto poi per essere un'opera prima io non è che mi aspettasse chissà che cosa nel senso è stata una scommessa sia per me come anche per l'editore perché nessuno poteva sapere come sarebbe andata ecco un editore tra l'altro che non è che si occupa di queste cose non è che si occupa dei libri degli youtuber cose che il mio non è un libro degli youtuber perché non è che parlo di youtube e quindi anche da parte loro è stata un tentativo di capire come potesse andare e per adesso mi sembra che siano soddisfatti anche io lo sono una cosa che mi dispiace è di non aver potuto implementare il libro con altre cose tipo un po' di foto in più tutte quelle robe lì perché sono cose che effettivamente in alcuni frangenti un po' la mancanza si sente però non è detto che nel prossimo futuro magari se ne farò un altro non uguale ecco su altri argomenti sempre relativi alle console e allora lì sicuramente le foto dovranno esserci per forza e collezioni anche libri? non so quali edizioni tipo quelle della Bitmap Books no non sono un collezionista di libri più o meno insomma vabbè a parte i romanzi capito no no parliamo di libri dedicati a no dedicati ai videogiochi no a parte console wars insomma quelli che hanno tutti relative ai videogiochi no ho qualcosina scritto da alcuni amici che poi nel giro insomma ci conosciamo quindi ce li passiamo eccetera però andare io proprio a cercarmeli non mi capita spesso ecco invece romanzi si di tutti i tipi cavolo si sono pieno da Harry Potter a Eragon c'ho di tutto che brutto film Eragon vabbè ma no lasciamo stare lasciamo stare anche i libri non è che siano poi tutta sta cosa però anche il doppiaggio lì col drago sulla voce del drago era chi era? Ilaria d'amico Ilaria d'amico mamma mia comunque questa è una domanda seria che cosa ne pensi del futuro dei videogiochi la realtà virtuale no a me tutta sta pazzia tutta sta follia che sta emergendo negli ultimi tempi fra metaverso e non ci credo scusate non ci credo tanto in questa cosa per il semplice fatto sono due i fattori il primo i costi i costi non sono tali da rendere questo genere di approccio al videogioco di massa e non credo lo potranno essere mai e due la scomodità di fruizione perché una cosa è prendere un pad o una console portatile mettere sull'autobus un'altra cosa è metterti il caschetto e poi c'hai il filo e poi c'hai i controller e ti isoli dal mondo magari ti va a fuoco la casa e tu sei lì che fai saltare le padelle con le uova sode non è non è fruibile in maniera semplice perché allora per diventare di massa una cosa deve essere economica e semplice sono solo queste due le cose che devono essere può essere anche la più grande merdata del mondo inutile ma se è economica ed è semplice fuori scala né economica né semplice se è economica e semplice vende anche la cacca ricordatevi e questo non è né economica appunto né meno semplice quindi non ci credo proprio tutta sta roba di Zuckerberg eh meta meta ti metti il caschetto ma lasciamo stare metanfetamina credo volessi metanfetamina si fanno forte molto potente negli studi di Facebook allora chiudiamo questa non so per me bellissima divertissima intervista Claudio con l'ultima domanda vai te la fa in cerca di me stesso grande la tua dolce metà gioca ancora a The Sims tra l'altro The Sims notevole selezione della colonna sonora allora sì però adesso mi sta tampinando per mettergli l'SSD sul computer perché adesso è lento quindi fa fatica poi dopo 300.000 espansioni di The Sims The Sims diventa tipo Call of Duty quando fa gli aggiornamenti da 60 giga quindi c'è bisogno di velocità e allora lì sì è una tortura ma prima o poi insomma metteremo sto SSD bene bene e niente direi hai altri progetti in mente per a parte la recensione di quell'easter egg che hai voluto fare così hai qualcosa che ci puoi spoilerare oppure basta finisce allora sicuramente quest'estate verranno girati altri 12 episodi di quella serie che piace sicuramente a tutti e che nessuno ha mai odiato e cioè thank you for playing oh quanti ne giri? 12 12 eh sì poi io vado avanti fino a ottobre giustamente quindi hai obiettivo uno al mese circa o aspetta no fino a ottobre no anzi no da ottobre fino a ah da ottobre ok quindi una settimana aspetta da ottobre a dicembre ok dello stesso anno quindi 12 episodi sì sì allora come sempre io con Paolo Marocco Maulo li giriamo tutti quanti insieme entro due giorni no? e poi vengono centellinati tant'è che mi ricordo i primi che eravamo vestiti tutti uguali perché cavolo era la stessa giornata ci dicevano eh ma dieci settimane vestiti sempre uguali cos'è non puzzate ma si capiva che erano fatti lo stesso giorno e quindi abbiamo imparato a travestirci quindi due video li facciamo con una maglietta altri due con un'altra così per evitare poi c'è stato il periodo covid no? che quindi bisognava stare con la mascherina un metro e c'erano quelli eh ma allora le misure di distanziamento sociale eh quando uno li abbiamo registrati ancora quando non c'erano le misure di distanziamento sociale quindi vabbè niente quindi sicuramente ne gireremo altri sicuramente la gente non li vedrà come non ha visto quelli fino adesso io lo visti tu l'unico e poi basta falli per me vabbè li faccio per te la cosa bella è che sono video semplici veloci da montare per me e che posso mantenere con una cadenza fissa quindi non mi rende il canale come adesso morto per mesi capito quello è la cosa buona per quanto la gente li detesti però quantomeno il canale rimane vivo e youtube non me lo distrugge capito perché se non pubblico per più di due settimane youtube dice ma tu chi sei dove vieni si dimentica di te guarda veramente l'ultima questa è una curiosità te la chiedono sempre in chat da Plata87 può essere che ti si vede nel video del concerto Luca Comics dove i nanowar nel 2018 hanno cantato con Mastrota si si può essere io lo so sempre si si sicuramente ero io e anche a quello dei Lacuna Coil c'ero credo l'anno dopo anche a quello della Cristinona da Venona ed ero uno di quelli che diceva esci là bravo bravo quindi se vedete scene di quei concerti io ci sono sempre sicuramente ci sono si 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 anche a quello del 2019 in cui c'era quello che canta le che cantava le colonne sonore tipo la sigla dei Cavalieri dello Zodiaco dei Cinque Samurai come si chiama? ah no Cavalieri anche Giorgio Vanni no quello vecchio ok ti chiama aiutami ce l'ho su la punta della lingua non mi viene comunque ti dicono che il sabato sera è un appuntamento fisso c'è posta per te si si ci sono certi luci non sempre no no dicono che su youtube ormai questo c'è posta per te e c'è thank you for play il sabato sera è questo è l'appuntamento fisso seppur vado in onda di domenica però però recupero la di sabato lo vede indifferita una settimana sicuramente allora Massimo Dorati l'autore la voce del gruppo era quelli degli odio on boys eh però il cantante Stefano Bersola ti dico non certo Stefano Bersola no vabbè non importa dai comunque siamo in chiusura Claudio ti ringrazio tantissimo sei stato di una gentilezza e di un'umiltà a partecipare in un canale così minuscolo che ah figurati mica faccio una questione di dimensioni non è quanto è grande come lo si usa ricordatevi spero che dice Massimo Dorati la prima serie le prime due serie Massimo Dorati aspetta adesso mi hai fatto venire in mente non si chiude la live finché lo si trova infatti infatti vediamo come cacchio si chiamava sto qua Enzo Draghi porca miseria porca vacca Luca non sei stato in vlog adesso si Claudio grazie ancora grazie grazie a voi veramente sia del lavoro che fai per noi su youtube per noi fan e per essere stato qua con noi grazie da voi grazie a voi